Piazza Garibaldi vuole tornare ad essere un luogo per le persone, un luogo più verde, un luogo di incontri, un luogo per eventi. Al questionario proposto dal Comune su come valorizzare Piazza Garibaldi hanno risposto 650 cittadini. Oltre il 60% ha espresso il desiderio di una maggiore presenza di verde, panchine, alberi, ai vuole e stalli per bici. Ma anche la volontà di una piazza che possa ospitare eventi. Gli arredi acquistati dal Comune saranno posizionati a partire da giugno, quando saranno tolti i parcheggi. Ci sono molte panchine, ma molte panchine modulabili che possono al bisogno trasformarsi anche in un palco per degli eventi. Ci sono panchine che inglobano un'alberatura o delle ai vuole, quindi più verde. Tutte queste risposte vengono anche dalle indicazioni che ci ha offerto la cittadinanza. E poi tante altre cose come dei portabici di varianatura, arredi colorati, anche delle sedute, dei tavolini. Insomma, diversi strumenti che assieme possiamo decidere di disporre in maniera varia e diversa sulla piazza. Sappiamo che la scuola Manzoni ha indirizzo musicale e fa il concerto di fine anno. Che bello sarebbe, e in questo la scuola è contenta di questa opportunità, ci stiamo lavorando assieme per cercare di renderlo possibile che il concerto finale venga effettuato proprio in piazza Garibaldi. Rimane al nodo dei genitori che accompagnano i figli a scuola, per cui l'assessore ha in mente una soluzione che sarà definita nei prossimi mesi per essere operativa a settembre, quando comincerà l'anno scolastico. Per tutti i ragazzi e le ragazze che vanno accompagnati dai genitori in automobile, noi potremmo suggerire delle modalità anche qui più comode e più utili anche per loro. Stiamo pensando a delle postazioni cosiddette di drive-thru, di chissé in goccia, dei luoghi di fermata breve in cui io fermo un attimo l'automobile, apro la portiera, mio figlio o mia figlia scende e poi proseguo in autonomia per andare a scuola.